Incursioni Contemporanea al complesso monumentale di San Pietro a Corte, un'esposizione di tre artisti, di che si tratta? Il progetto Incursioni Contemporanea nasce come un teatro delle arti, l'idea è quella di mettere a confronto lo spazio storico e la memoria dell'ipogeo della chiesa di San Pietro a Corte, il complesso monumentale di San Pietro a Corte, con tre artisti contemporanei, Marisa Albanese, Lello Lopez e Paolo Grassino. Tre artisti che con linguaggi differenti si confrontano con tematiche attuali e dialogano appunto con il passato, con la storia e la memoria di questo luogo dove c'è una stratificazione archeologica molto molto importante. L'idea è anche quella di, lavorando insieme appunto alla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Salernia Avellino, di rivitalizzare anche un luogo storico molto spesso abbandonato a se stesso perché chiaramente la gente non conosce questo spazio oppure non frequenta questo spazio. L'arte contemporanea può servire da viatico proprio per far entrare in relazione con questo spazio storico i cittadini e i turisti che vengono a Salerno. Un'esposizione che durerà da ottobre a dicembre. Sì, il progetto appunto è proprio suddiviso in tre momenti fondamentali. Ogni 20 giorni ci sarà l'inaugurazione di uno dei tre artisti con delle installazioni costruite ad hoc per lo spazio e si alterneranno appunto dal 24 ottobre alle 12 con Marisa Albanese, dal 13 novembre Lello Lopez e dal 4 dicembre Paolo Grassino. Ricordiamo anche i partner. I partner, oltre appunto alla soprintendenza, sono il Comune di Salerno, il Museo Madre e la collaborazione di due gallerie di Napoli, Studio Trisorio e Shazzar Gallery. Quindi appuntamento a domenica. Appuntamento a domenica alle ore 12 a San Pietro Accorte, largo San Pietro Accorte appunto, per il vernissage di Marisa Albanese.